Musica Oltre 1100 polizie e fideiussorie false emesse in tutta Italia nei confronti di enti pubblici, fra cui prefetture, ministeri e regioni e privati da una società non autorizzata all'esercizio per un capitale coperto fittiziamente di 170 milioni di euro. Un'attività illecita che ha fruttato premi per circa 3 milioni per polizie inesistenti. Da oggi sono in corso di esecuzione da parte delle Fiamme Gialle dell'Aquila misure cautelari con un arresto in carcere e due domiciliari nei confronti di tre persone rispettivamente amministratore delegato, presidente del collegio sindacale e presidente del consiglio di amministrazione della Confideuropa SCPA, con sede legale nel capoluogo abruzzese e unità operativa a Coleferro Roma. Le accuse principali sono di truffa aggravata, associazione per delinquere e abusiva attività finanziaria. Tra gli enti truffati, numerosi dei quali anche con polizie escusse naturalmente senza successo, figurano le regioni Sicilia, Trentino e Abruzzo. La rete di clienti era così estesa perché i costi erano al di sotto della media di mercato, coinvolta nell'inchiesta una quarta persona nella sua qualità di sindaco supplente della Confideuropa SCPA sul quale pende un provvedimento di rivieto dell'esercizio dell'attività professionale. Nelle misure emesse dal GIP del Tribunale dell'Aquila, su richiesta del sostituto procuratore Stefano Gallo, ai quattro indagati vengono contestati anche le ipotesi di reato di false comunicazioni sociali, formazione fittizia del capitale, ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza ed una dichiarazione infedele. Le indagini portate avanti dai militari del nucleo di polizia tributaria guidati dal colonnello Sergio Aloia sono scattate con un'ispezione antiriciclaggio avviata dagli investigatori della Guardia di Finanza nell'aprile del 2014, a seguito di due segnalazioni. L'una proveniente dalla Banca d'Italia su un presunto esercizio abusivo dell'attività svolta dalla Confideuropa SCPA e l'altra dal nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, su alcune operazioni bancarie sospette poste dal presidente del Consiglio d'amministrazione. A quel punto è emerso che la società controllata, in assenza dei requisiti richiesti dalla legge, aveva emesso un numero elevatissimo di fideiussioni. È stato accertato anche che le garanzie erano state prestate in favore di soggetti fisici e giuridici non consociati ed enti pubblici vari in palese violazione delle norme contenute nel testo unico bancario, che consentono ai cosiddetti confidi minori, come la Confideuropa, di garantire soltanto i consociati. Gli arrestati sono CL classe 63, MG classe 42, SR classe 40, nella loro qualità rispettivamente di amministratore delegato, presidente del Consiglio sindacale e presidente del Consiglio d'amministrazione della Confideuropa. Il professionista raggiunto dal provvedimento di divieto dell'esercizio temporaneo dell'attività è AA, classe 49. Inizia con il piede giusto il campionato nazionale di Serie A per l'Aquila Rugby Club, che di fronte al numeroso pubblico del Fattori esordisce nella fase territoriale Girone 4, con una vittoria per 36 a 12, sull'UR Capitolina, una delle squadre più accreditate del Girone. Parte subito bene il 15 di Troiani e Rotilio, che va in meta dopo il primo giro di orologio, grazie al buco creato da Nicolò Speranza nella difesa avversaria. La giovane apertura Filippo Di Marco trasforma, reagisce immediatamente alla Capitolina che trova il pareggio con la marcatura di Alessandro Iacolucci. L'Aquila subisce la pressione dei Romani, ma nella seconda parte del primo tempo tenta e riesce nell'allungo. Al 27esimo è il talonatore Nicola Rettagliata, tra i migliori in campo, a schiacciare tra i pali. Seguito dal capitano Alessandro Cialone, tre minuti più tardi. L'unico calcio piazzaro della gara, messo a segno da Di Marco, manda le squadre negli spogliatoi sul 24 a 7. Nel secondo tempo la partita scende vistosamente di ritmo, ma l'Aquila continua a difendere Mene, respingendo i tentativi di rimontane della Capitolina. Dopo verde porta alla quarta meta, quella del bonus offensivo, firmata da Luciano Montivero. Nella parte centrale della ripresa la Capitolina va all'assalto, ma i neroverdi tengono bene sui punti d'incontro. Il finale vede l'Aquila in inferiorità numerica, per due gialli prima a Cialone e poi a Gentile, ma comunque a segno con la quinta meta di Giorgio Erbolini, che si invola dopo uno splendido intercetto. Nell'ultima azione arriva anche la seconda meta della Capitolina, con Stefano Bitonte. Prima della partita, il 15 neroverde ha indossato la t-shirt Il Fatto non su Stiste, 6 aprile 2009, il ricordo di Ciccio Sebastiani e di tutte le vittime del terremoto, ed in seguito alla sentenza nel processo Grandi Rischi Bis, emessa a vendere discorso all'Aquila. In mattinata invece, il concentramento regionale, organizzato dal Comitato FIR regionale, in collaborazione con Rugby Experience, ha visto la partecipazione di circa 250 bambini e bambine nelle categorie Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12. Hanno partecipato al concentramento le società Arnold di Roma, Avezzano e Polisportiva L'Aquila. Ed è stata una partita molto piacevole, all'inizio forse un po' troppo ansiosi di andare subito a segnare. Logicamente gli avversari non te lo permettono, però tutto sommato poi ci siamo rilassati e abbiamo giocato un po' più sciolto, un po' meglio. Un Avezzano spento e anche spuntato perde la prima gara della stagione al Dei Marsi contro il Muravera. Al termine di 90 minuti che hanno visto i bianco-verdi concludere poco verso la porta di Arrus. Chi si aspettava una passeggiata contro i Sardi, penultimi in classifica e senza un gol all'attivo prima di questa partita. È rimasto deluso anche perché la formazione isolana ha interpretato bene la sfida in terra marsicana trovando il gol vittoria al novantesimo con Chessa. Per l'Avezzano un KO che non cambia nulla dopo cinque giornate di campionato ma che si spera possa servire di lezione ad una settimana dalla trasferta di Nuoro. Si comincia al settimo con uno spavento per i ragazzi di Pino Tortora e con il tiro di Bruno che scheggia la parte superiore della traversa. L'Avezzano nei primi minuti subisce un po' a sorpresa la verve dei Sardi che si propongono spesso nella metà campo marsicana. Al decimo c'è una punizione di Sassarini ed un tocco di tabacco che manda il pallone al lato ma la squadra di Piras è ancora insidiosa e al quindicesimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo è satta di testa a colpire in pieno il palo con Lewandowski battuto. Dopo lo scampato pericolo i bianco-verdi in qualche modo cercano di scuotersi anche se al ventiquattresimo è Chessa dopo un rimpallo su punizione battuta da un compagno ritrovarsi davanti a Lewandowski non riuscendo però a colpire la sfera come vorrebbe pensando forse erroneamente di essere in fuorigioco. Al ventisettesimo la prima vera occasione l'Avezzano trova il vantaggio grazie a Bittai che dopo un pallone recuperato sulla tre quarti da Persia viene lanciato in area dove non sbaglia per l'1-0. La risposta ospite perentoria e fulminea visto che sul capovolgimento di fronte Pinna ristabilisce subito la parità. Si arriva così alla parte finale del primo tempo quando si vedono al quarantatresimo ancora gli ospiti con Nurchi che dopo una bella giocata in velocità chiama Lewandowski al salvataggio in calcio d'angolo. Nella ripresa si riparte dall'1-1 con Deramo in campo fra i bianco-verdi al posto di Persia. Il gioco è però concentrato soprattutto nella zona di centrocampo con i due portieri quasi nuoperosi. Il primo acuto della ripresa arriva al decimo quando su calcio d'angolo il portiere Arrus del Muravera esce a vuoto e Lopinto colpisce di testa mandando il pallone di pochissimo a lato. All'undicesimo si rivede il Muravera con un tiro di Nurchi controllato da Lewandowski. Tortora getta nella Minskia anche Padovani richiamando in panchina Quino. Al diciottesimo si vede anche il neoentrato Deramo concludere dalla distanza con il pallone però fuori misura. Avezzano Muravera non regala grandi emozioni. La gara appare bloccata con i bianco-verdi in giornata non particolarmente brillante. a far muovere l'ago della bilancia dall'una o dall'altra parte ci vorrebbe una giocata della domenica che però non arriva. Ci prova Nurchi al trentunesimo con una conclusione a giro che termina però a lato ma il veleno è in coda con il gol di Chessa al quarantacinquesimo per la vittoria dei Sardi. Bocche cucite in casa bianco-verde con il tecnico Pino Tortore ed il presidente Paris che hanno preferito non rilasciare dichiarazioni. Grazie a tutti.